Bene, visto che sono riuscito a finire anche questo discorso che volevo fare, passiamo ad un altro discorso e passiamo al concetto di male assoluto nella religione pagana politeista. Che cos'è il male per la religione pagana politeista? Nelle antiche religioni non c'era il concetto di male assoluto. Il male era definito all'interno delle parti concorrenti alla soluzione delle contraddizioni. Mai come oggetto esterno alle contraddizioni stesse. Il male era un oggetto relativo che si manifestava all'interno della contraddizione e cessava di agire una volta che la contraddizione si risolveva. In ogni caso il male non era un oggetto in sé ma sempre una percezione soggettiva di chi viveva la contraddizione. Il male assoluto è inteso come un oggetto che punta alla distruzione della vita della natura. Senza consentire agli esseri della natura di poterlo affrontare come un oggetto che rientra sotto i loro sensi. Il male nella religione pagana politeista è quanto ostacola lo sviluppo e le trasformazioni della vita. Soggettivamente c'è un male relativo al singolo essere della natura, un male relativo alla singola specie e il male che agendo su alcuni esseri o alcune specie di esseri della natura si riversa sull'intera natura distruggendola. La religione pagana politeista individua il male come oggetto che impedisce agli esseri della natura di trasformarsi in dei. Il male è quanto impedisce agli esseri della natura di trasformarsi in dei. Per ottenere questo il male deve saccheggiare l'intera esistenza di quegli esseri sottoponendoli a vessazioni distruttive per allontanarli da quelle azioni e da quelle scelte di vita che potrebbero portarli a costruire il loro corpo luminoso. Pertanto la religione pagana politeista non individua il male nelle sole finalità della sua azione, cioè impedire agli esseri umani di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma individua il male in tutte le azioni che costui compie nella quotidianità al fine di distruggere negli esseri umani la capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro esistenza e attraverso questa trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Come religione pagana politeista pur conoscendo il male e le sue ragioni d'esistenza riteniamo che non si possa combattere come oggetto in sé ma si possano combattere le sue manifestazioni della vita negli uomini sia nell'esistenza personale che nell'esistenza sociale e si può combattere al fine di renderla inefficace e ininfluente all'interno della vita degli esseri umani l'ideologia con cui il male tenta di riaffermare se stesso come religione nella società umana. Il male si nutre della sottomissione che è fatta propria dagli esseri umani viene da questi attraverso le relazioni gerarchiche riprodotte nella società civile. Una sottomissione che si appropria della struttura emozionale delle persone imposta nell'età infantile che rende le persone incapaci di concepire un'esistenza che non sia organizzata attraverso una struttura coercitiva che imponga sottomissione. Così tutta la storia dell'umanità degli ultimi 2000 anni, altro non è che uno scontro fra chi vuole ridurre gli esseri umani in schiavi, oggetti di possesso e le società civili in campo di sterminio e chi rispondendo ai bisogni e alle tensioni che da dentro di loro spingono per rompere le catene coercitive tentano di liberare la struttura emotiva degli esseri umani e le società civili da quanto impedisce loro di costruire il loro futuro. A questa attività di liberazione, che si esprime sempre in maniera diversa secondo la struttura culturale delle varie società, c'è il tentativo da parte del male di riaffermare il proprio dominio continuando in modo diverso e ristrutturato a sottomettere gli esseri umani. L'attuale strategia di sottomissione e distruzione degli esseri umani ebbe origine circa 2600 anni or solo. Fu solo con l'avvento del monoteismo che il male diventa un oggetto in sé. Gli ebrei, deportati a Babilonia, elaborarono una strategia socioemotiva attraverso la quale imporre il male alle società civili. Il problema che i profetti ebraici dovette affrontare fu quella di garantirsi il dominio emotivo ed organizzativo nei confronti delle persone ebraiche deportate a Babilonia. Per loro il pericolo era rappresentato dall'integrazione delle persone deportate con la società civile babilonese. Una società civile che garantiva ai deportati uno spazio di libertà talmente ampio da fare imbestialire i loro padroni, i profetti ebraici. I profetti ebraici erano i veri padroni del popolo ebraico. I profetti ebraici sapevano che cos'era lo schiavismo, la riduzione dell'uomo alla sottomissione, altro che questi mollaccioni dei babilonesi che consentivano ai loro schiavi il commercio, il possesso della casa, la coltivazione e la libertà di espressione e di organizzazione. E così si inventarono un Dio padrone, si inventarono la Bibbia, si inventarono un esodo e elaborarono la struttura giuridica di sottomissione e di istruzione dell'uomo, proprio della Bibbia. Non si tratta di elaborazione di un mito, si tratta di giustificare in termini divini e storici il diritto di alcuni criminali ebrei di possedere e di stuprare emozionalmente il loro popolo. Quest'operazione sarà continuata dai cristiani, che inventandosi la descrizione di un povero pazzo, che è il Gesù di Nazareth, avvaleranno il loro diritto a possedere e stuprare gli esseri umani. Il progetto di istruzione dell'essere umano, ad opera dei profetti ebraici a Babilonia, è ben individuato nella genesi della Bibbia, quando si rileva la relazione fra il Dio padrone pensato dagli ebrei e gli esseri umani, che egli, impaurito, scaccia dal paradiso terrestre. Ecco, dice il Dio degli ebrei e dei cristiani, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3.22 I profetti ebraici a Babilonia, frequentando nelle scuole, hanno compreso che l'essere umano è un Dio, purché vive in maniera virtuosa, e i profetti ebraici dicono, facciamo in modo che non trasformi la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Qual è la scoperta dei profetti ebraici? I profetti ebraici scoprono la manipolazione mentale infantile. I profetti ebraici, Geremia e Isaia, dovevano risolvere, dovettero rispondere ad un quesito. Un attimo solo, faccio una piccola correzione, perché visto che... Allora... Eccolo qua. Vediamo un attimo solo... Eccolo qua. Allora, i profetti ebraici, Geremia e Isaia, dovevano rispondere ad un quesito. Come facciamo a far sì che le persone non si integrino con la popolazione di Babilonia, pur passando le generazioni? E anche questo è da correggere. Ai, ai, ai. Eccolo qua. Vediamo un attimo solo... Pur passando delle generazioni, dissero i profetti ebraici. Ora gli ebrei conoscono la cultura della libertà, che apprendono dalla popolazione di Babilonia. Facciamo in modo che ora non stendano la loro mano, non la applicano nella vita quotidiana, per vivere in eterno trasformandosi in dei. E così, imposerò agli ebrei presso Babilonia, di inculcare nei loro figli la sottomissione al loro Dio padrone. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Vi ricordo che questa è una tradizione, è una traduzione della Bibbia cattolica dei Paolini. In realtà la traduzione reale è molto, ma molto più pesante. Si parla di inculcare tranquillamente. Gli ebrei prima e i cristiani poi applicarono questo dettato puntualmente, prendendo spunto e lo hanno applicato in maniera sistematica. Solo che, come vi ho letto prima, a proposito di Venere, a proposito dell'infatuazione e della manifestazione di Venere e di Afrodite da parte degli uomini, e la scienza ci dà dei riscontri. E allora questo inculcare che ordina il Dio pazzo dei cristiani ai figli degli uomini, su cosa si innesta? L'abbiamo già detto l'altra volta, però forse è bene che ce lo ripassiamo. Proviamo a leggere le tappe dello sviluppo della mente dei neonati e poi vediamo come inculcare, come questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore, insegnano ai tuoi figli, parlano con loro, e quando te ne starai in casa tua, e quando camminerai per via, e quando ti corichi, e quando ti alzi, legali come segnale alla tua mano, e ti siano come frontali ai tuoi occhi, e poi vediamo dove si innestano questi. E' necessario conoscere le tappe di sviluppo della mente dell'età neonatale per riuscire a comprendere i meccanismi che ci hanno indotto ad assumere alcuni tipi di comportamenti e poterli variare. E prendo sempre dal giornale che vi ho detto l'altra volta, a Repubblica, l'8 agosto 2005, le tappe sullo sviluppo della mente infantile. A dieci settimane non è vero che per i neonati vale lontano degli occhi, lontano del cuore, già a dieci settimane di vita. Capiscono, ad esempio, che quando la mamma si è lontana, loro vista, continua ad esserci. Il cervello di un neonato di circa un terzo di quello d'adulto ed è rinondante, ossia possiede migliaia di cellule in sovranumero. Quelle cellule in sovranumero si selezionano attraverso la crescita del bambino, ma se questi qua continuano a menaglierla col Dio padrone e metterti in ginocchio e metterti in ginocchio e metterti in ginocchio, la selezione delle cellule del bambino è una selezione finalizzata all'autodistruzione. Per cui questi già preparano i loro figli all'autodistruzione. A quattro mesi aumentano le connessioni fra neuroni ed aree cerebrali e cresce la capacità delle aree predisposte alla vista. E questi continuano a parlargli del Dio padrone e metterti in ginocchio e metterti in ginocchio e metterti in ginocchio. A sei mesi la corteccia cerebrale resta attiva anche nel sonno. Il cervello continua ad accrescerci in modo sorprendente e questi continuano a metterti in ginocchio, metterti in ginocchio, metterti in ginocchio e li presentano le persone, gli adulti, che si mettono in ginocchio. A sette mesi crescono le aree predisposte alla comprensione del linguaggio. I bambini cominciano a imitare i primi suoni e questi continuano a metterti in ginocchio, metterti in ginocchio, metterti in ginocchio e li presentano persone che si mettono in ginocchio. Per cui tutta quella che è la selezione infantile del primo anno di vita praticamente viene accuratamente selezionata e viene dato un'imprimatura alla crescita del bambino che è finalizzata la sottomissione e la sua autodistruzione. Questo è il senso dell'affermazione della Bibbia di inculcare nei bambini. Questo è il senso della Bibbia di fare il lavaggio del cervello, di fare manipolazione mentale nei confronti dei bambini. Per un anno nato l'attività messa a punto dai profetti ebraici non lasciava scampo, lo marchiava nella struttura emozionale e nella psiche per tutta la vita. Per tutta la vita avrebbe creduto non solo al Dio padrone ma avrebbe considerato una missione la sua autodistruzione, la sua rinuncia a cogliere dall'albero della vita eterna. I cristiani, in seguito, dagli zeloti ai cristiani odierni perfezionarono la tecnica di manipolazione mentale. Scrivi, dice il Dio degli ebrei, che io ho il diritto di ammazzarti e tu no. Scrivi che io ho il diritto di rubare, dice il Dio degli ebrei, io ho il diritto di rubare e tu no. Scrivi che io ho il diritto di metterli in ginocchio e tu hai il diritto di stare in ginocchio. E questo dillo ai tuoi figli. Dillo ai tuoi figli che tu hai il diritto di ammazzarli, ma loro no. Che tu hai il diritto di rubarli, ma loro no. Che tu hai il diritto di metterli in ginocchio davanti a te e loro hanno il diritto di stare in ginocchio davanti a te. Scrivi, dice il Dio padrone degli ebrei, che io ho il diritto di impedirti di diventare un Dio e vivere in eterno e tu hai il diritto di rivendicarti, di sottometterti e di rinunciare all'infinito in favore mio. Vi ricordo che quello che è il diritto dei genitori rispetto ai bambini è cambiato soltanto da una ventina d'anni col diritto di famiglia. C'è stato tutto un processo dal secolo scorso fino ad oggi per cui c'è stata la modificazione della struttura sociale. Ma vi ricordo che il diritto dei genitori di ammazzare i figli fino all'altro giorno era un dato di fatto. Vi ricordo questo. Il tutto i profeti ebraici lo giustificarono con la promessa di una ruberia di massa, una rapina ai danni di uomini e popoli che loro e il loro Dio padrone farebbero nei confronti di altri popoli. Questo è ancora più micidiale. Cioè praticamente quello che viene passato, l'ordine del Dio padrone di fare manipolazione mentale sui bambini viene giustificato con una promessa agli ebrei di rapina e di devastazione dei popoli. Dice la Bibbia Deuteronomio 6, 10-13 Pertanto il lavaggio del cervello dei bambini era finalizzato e voluto dai profeti ebraici deportati a Babilonia per mantenere compatta la loro banda, la loro mafia all'interno di Babilonia. Questa mafia aveva la promessa del Dio padrone di prendersi città che non ha costruito, di prendersi case che non ha edificato, di prendersi ogni bene che non ha riempito, di prendersi pozzi che non ha scavato, di prendersi vigne e olivetti che non ha piantato. Praticamente giustifica il lavaggio del cervello dei bambini a manipolazione mentale con una grande rapina, con una grande ruberia che il Dio che ordina la manipolazione mentale in confronto dei bambini assicura che fa la manipolazione mentale in confronto dei bambini. E' veramente... Questo è il Deuteronomio, eh! Non vi sto inventando neanche una virgola! Questa è la Bibbia dei cristiani! Cioè, è una cosa veramente... illegale, criminale, nazista! Cioè, tutti gli appellativi peggiori che voi potete dare... e se questi... Distruzione dell'essere umano mediante la manipolazione mentale e distruzione delle società civili. Questo è, per il paganesimo politeista, il male assoluto. Prima dell'arrivo del monoteismo era un male sconosciuto. Sempre i popoli si sono combattuti, sempre si sono contesi beni e poteri, mai hanno ucciso e sterminato per impossessarsi dell'anima delle persone, del dominio della loro psiche. Mai hanno combattuto per imporre un Dio al posto di un altro. Mai hanno costruito campi di sterminio in nome di un Dio padrone con il quale identificarsi e al quale sottomettere altri popoli. Vediamo un attimino... Faccio questa collezione. Il male assoluto è una costante. È una costante sia nella qualità della sua rappresentazione, sia nell'enunciazione dottrinale. Ciò che cambia nel corso degli ultimi 2600 anni è il modo con cui il male si presenta, le tecniche che applica per distruggere il divenire degli esseri umani. Individuare come il male assoluto si presenta nella società attuale è compito dei pagani politeisti. Rimuove la sottomissione, la coercizione con la quale si distrugge il divenire magico degli esseri umani nell'infinito è compito di ogni pagano politeista nella propria cultura perché un pagano politeista è un soggetto che vive nel sistema sociale ed è al servizio del sistema sociale e al servizio dei suoi bisogni e delle tensioni che tentano di espanderlo all'infinito. Per questo motivo, nell'elaborazione dottrinale della religione pagana politeista entra prepotentemente la descrizione del male. prima di oggi nel paganesimo politeista, prima dell'avvento del cristianesimo, prima dell'avvento del monoteismo, il concetto di male assoluto nelle antiche religioni non esisteva. La descrizione del male come lettura ed interpretazione della Bibbia e dei Vangeli ufficiali adottati storicamente dai cristiani. È bene ribadire che non esiste un Dio creatore. È bene ribadire che non è mai esistito un tale Mosè. È bene ribadire che non è mai esistito un tale Gesù di Nazareth. Questi personaggi e quanto si racconta di loro sono pure invenzioni, fandonie, truffe, invenzioni finalizzate a carpire la buona fede di persone deboli ed indifese per usare persone deboli e indifese. Esistono dei testi Bibbia, Vangeli ufficiali e Atti dalle Apostoli che descrivono come deve essere condotta la guerra per distruggere gli esseri umani e i sistemi sociali. Come impedire agli esseri umani di proseguire nell'infinito dei mutamenti. Come giustificare dottrinalmente lo stupro dei bambini. Questi testi descrivono il male assoluto e come chi ha soggettivato il male assoluto deve riprodurlo nella società civile. Per questo motivo noi come pagani politeisti pur consci che tutto ciò è una truffa trattiamo il pazzo di Nazareth come se fosse esistito il macellaio di Sodome e Gomorra come se fosse un oggetto reale perché riteniamo che solo in quel modo possiamo fermare l'attività di terrorismo di chi manifestando il male assoluto intende distruggere la società civile. Proviamo a vedere come il male assoluto si manifesta e si presenta nella società civile in Italia oggi nell'agosto 2005. Sono dell'agosto 2005 le farneticazioni del criminale Ratzinger con cui proclama le farneticazioni della Chiesa Cattolica sopra e al di là della legge civile e sociale. Proviamo a leggere dal giornale La Repubblica del 15 agosto 2005. Ratzinger afferma è bello essere cristiani la Chiesa non è un fardello di divieti e di principi non è una cosa vecchia il che significa è bello essere cristiani è bello stuprare bambini rivendicare il diritto al dominio del mondo non ci sono dei principi che ci vietano questo. Afferma Ratzinger sempre dalla Repubblica il 15 agosto 2005 La Chiesa è amore ce lo insegnano testimoni come Edith Stein e Massimiliano Kolbe morti nei campi nazisti il che significa ci insegna l'amore il macellaio della Croazia Stepinac vi ricordo che abbiamo fatto santo il macellaio Antonio da Padova che abbiamo fatto santo il truffatore Padre Pio che abbiamo fatto santo la macellaia dell'India Teresa di Calcutta e decine e decine di santi assassini e criminali davanti a quella Chiesa Cattolica costringe i bambini in ginocchio a pregare come il criminale San Francesco Ratzinger vigliacamente esalta il particolare per sottomettere le persone al generale infatti non nomina le decine di vescovi che non solo non appoggiarono ma furono parte attiva nella nascita e nello sviluppo del nazismo nazismo e cattolicesimo sono la stessa cosa e le parole vanno considerate dei sinonimi afferma Ratzinger sono contento la provvidenza ha voluto che il primo viaggio fosse proprio in Germania il che significa sono contento che il mio primo impegno sia contro i luterani essi che avevano in abominio le indulgenze e le amnistie dei peccati che noi che rappresentiamo in terra il Dio padrone creatore dell'universo dovranno soccombere al nostro potere di evocazione di massa mentre dispensiamo indulgenze a chiunque verrà ad ascoltare il nostro potere e il nostro dominio crepino i luterani davanti al potere di mobilitazione della Chiesa Cattolica e su questo punto vi ricordo che la mobilitazione di Colonia non è altro che una rivisitazione di quello che storicamente vengono chiamate le adunate oceaniche fasciste naziste oppure russe insomma cioè quello che era l'esaltazione del dominio sopra gli altri non hanno nulla di cultura e sono pagate per riuscire a fare delle pressioni rispetto ai governi e distruggere i loro sistemi sociali afferma Ratzinger i giovani è sempre bello incontrarli magari hanno tanti problemi ma portano con sé tanta speranza ed entusiasmo il che significa i giovani cattolici sono degli idioti noi li struperiamo li violentiamo distruggiamo il loro futuro costringendoli in ginocchio davanti al macellare Sodoma e Gomorra ed essi nemmeno se ne avvedono prendono la nostra propaganda come se fosse Vangelo ma il Vangelo vero è quello che ci autorizza a stuprare i più deboli a costruire la miseria fra i popoli a sfruttare la miseria per il nostro potere è bello incontrare questi idioti afferma Ratzinger ecumenismo potranno avere risposte anche giovani non cattolici e ciò non potrà che fare del bene al dialogo ecumenico il che significa potremmo violentare anche i ragazzi che non sono cattolici e questo rafforzerà la nostra posizione nei confronti delle religioni e dei credi che non sono cattolici vi ricordo che recentemente Ratzinger vuole il croce fisso vuole continuare a stuprare i bambini costringendo i ginocchi davanti al croce fisso il che è stato di una dichiarazione di un abominio di una violenza spaventosa afferma Ratzinger nella società occidentale molte zavorre c'è lontano dal cristianesimo fede e Dio appaiono lontani il che significa che è strano stupriamo bambini esaltiamo i campi di sterminio esaltiamo il macellare di Sodome e Gomorra esaltiamo il pazzo di Nazareth ci proponiamo di riattivare i roghi di distruggere la società civile di costruire miseria e disperazione eppure nonostante ciò l'Europa ha deciso di fare a meno delle radici cristiane le affermazioni di Ratzinger sono tratte dal giornale La Repubblica del 15 agosto 2005 ed è l'aspetto con cui il male assoluto si presenta nelle società civili oggi 15 agosto 2005 guardatevi dal terrorismo cristiano la religione pagana politeista ha individuato nei testi cristiani la descrizione del male come processo di distruzione del divenire umano nell'infinito dei mutamenti vi ricordo che questo pezzo lo troverete fra un paio di giorni in internet sul sito www.federazionepagana.it non c'è ancora ma ci sarà prestissimo pertanto questa è la descrizione del male assoluto rispetto al paganesimo politeista la scelta è fra uomini che sono responsabili di se stessi che manifestano i diritti i diritti e i doveri che la loro costituzione gli da gente che manifesta la propria responsabilità delle proprie azioni nel sistema sociale e uomini che vivono in ginocchio uomini irresponsabili uomini che non pagano per le loro azioni e per gli effetti delle loro azioni uomini che costruiscono il vuoto all'interno degli individui deboli ed indifesi questa è la differenza e questo scontro voi lo troverete sempre nella vita degli uomini perché questo in realtà è uno scontro che è avvenuto fin da quando c'è il monoteismo fin da quando a Babilonia gli ebrei deportati si scontrarono con i babilonesi il punto grosso è che mentre gli ebrei che erano a Babilonia erano circa 5.000 si calcola che fossero stati deportati a Babilonia mentre loro avevano l'istruzione cioè mentre loro potevano andare a scuola appropriarsi di quella che era la cultura babilonese gli ebrei che erano rimasti in territorio di Palestina invece erano completamente acculturati cioè non avevano nessuna cultura e quando ci fu il ritorno quando gli ebrei di Babilonia tornarono in Palestina in realtà si scontrarono militarmente con gli ebrei che erano rimasti e fu uno scontro militare violentissimo perché gli ebrei deportati praticamente volevano il controllo mi ricorda qualcosa di tutto questo ma sapete com'è forse Marx aveva torto quando la storia si ripete non sempre la tragedia è la prima volta è la seconda la farsa purtroppo a volte ci sono delle cose molto più pesanti ma d'altronde questa è la vita in cui noi viviamo e esistiamo e in questa vita noi costruiamo le nostre strategie di esistenza d'altronde come sapete Ratzinger sta facendo sta facendo il suo raduno di massa a Colonia e guarda caso mentre Ratzinger scusate un attimo solo mentre Ratzinger sta facendo il suo raduno di massa a Colonia si viene a sapere che cosa beh si viene a sapere che in Italia gli studenti delle scuole delle classi di religione passano dall'11 cioè quelli che non fanno religione passano dall'11 7% del 2001 al 37 e 6% del 2004 pertanto c'è un crollo dell'interesse rispetto all'insegnamento della religione cattolica che è di circa 4 volte cosa significa? significa praticamente su 2 milioni e mezzo un milione di ragazzi non vogliono seguire la religione cattolica non vogliono andare a scuola e seguire la religione cattolica cifre che aumentano moltissimo quando la religione cattolica viene messa all'inizio alla fine dell'orario scolastico il che significa che il disinteresse è assoluto c'è un'altra cosa ancora c'è un altro dato sempre all'interno di questi dati sembrerebbe che nei piccoli centri invece l'insegnamento della chiesa cattolica sia stabile se non in leggero aumento perché questo? perché nei piccoli centri si esercita l'attività mafiosa e di feroce controllo ad opera delle parrocchie cioè praticamente esiste un'attività all'interno dei piccoli centri di ricatto morale di ricatto psicologico di piccole operazioni di mobbing nei confronti di ragazzi che non accettano l'insegnamento della religione cattolica pertanto nei piccoli centri diciamo così esiste ancora la possibilità da parte dei cattolici di stuprare i ragazzini questo comunque è un discorso di società civile che deve cambiare che si deve evolvere ed è un discorso anche abbastanza pesantuccio dal punto di vista anche giuridico solo che purtroppo il reato è grossissimo e l'effetto del reato è considerato piccolo dalle strutture dei magistrati cioè in pratica è grosso il reato in se stesso come enunciato ma è piccolo negli effetti e là è difficile che i magistrati intervengano ma abbiamo anche un altro caso recentemente abbiamo avuto nella città di Oristano un crocefisso che cade e ammazza una fedele bene di questi episodi ne parla un tale Francesco Merlo Francesco Merlo in un suo articolo che commenta quello che è il discorso sulla fuga da insegnamento religioso insomma dice a un certo punto c'è un rapporto forte e sicuro fra la fuga degli studenti dell'ora di religione e l'uso politico della religione fra la nuova chiesa del papa tedesco e il rifiuto giovanile del nuovo catechismo il forte calo di interesse per l'insegnamento della religione è la risposta della società aperta dei ragazzi contro i suoi nemici contro la furbizia occlusiva e Teocon contro la società chiusa di Marcello Pera è come è come una denunzia di illegittimità dell'abuso ideologico della religione fatto dagli appostati della laicità dai maramaldi della logica e anche dall'ateismo alchemico e raffinato di Giuliano Ferrara che vorrebbe trasformare l'oppio della religione cristiana in caffeina civile ricordo un altro professore di religiose di regione Don Bonaventura Lipira il quale credeva di arrivare a Dio attraverso l'audace della logica una volta appena entrato in classe disse a uno studente vai a vedere se io sono nella mia stanza quello andò e tornò Don Lipira lei non c'è partì così una discussione allegra e profonda sull'ubiquità dell'essere in aula A in aula B e in aula C in camera o in classe in cielo in terra in ogni luogo il Dio che qui i professori ci insegnavano a volte ci annoiava mai però ci cade addosso come è successo a Mogonella nella provincia di Oristano è vero che le disgrazie possono capitare dovunque ma in quel piccolo paese sul sacrato la disgrazia del pesante crocefisso di ferro rovinato durante la messa su una povera devota di 42 anni Paoletta Urru si può leggere come metafora del rischio di una religione sollevata oltre l'ambito personale se quella croce metafora fosse stata ad altezza d'uomo la sua portata la signora non avrebbe subito danno mortale dalla sua instabilità tutto ciò che è umano è instabile come le religioni umane instabile e pericolose l'eccesso di visibilità e il sovraccarico retorico scardino la dolcezza del vivere che pure si è soliti vedere qui dice nella croce io non riesco a vederla ma insomma ebbene il declino dell'ora di religione è il tributo pagato a una croce fattasi minacciosa e strumentalmente asservita a manovre elettorali le religioni infatti diventano tutte brutte intolleranti ed intollerabili quando dimenticano di essere umane relative e dimentiche si contrappongono e si fanno uguali nella reciproca intolleranza anche la croce può correre il rischio di tornare a simboleggiare la sua originale funzione di tortura e di morte come la pietra nera dell'islam che richiama appunto l'età della pietra praticamente abbiamo quello che è la realtà della religione cattolica della religione cristiana in generale ed è praticamente la sua fine la sua morte ormai le persone stanno riconoscendo un povero pazzo e cretino come il pazzo di Nazareth e un despoto assassino qual è il macellaio di Sodome Gomorra e vi ricordo un'altra cosetta che vado a memoria vi ricordo che sulle mie pagine in internet ci sono tutta una serie di pagine di analisi di commento a quelli che sono alcuni aspetti delle Enea di Diplotino bene quelle pagine a commento delle Enea di Diplotino vennero fatte alcuni anni fa quando un amico mi aveva segnalato che Ratzinger stava tentando di fare un'operazione abbastanza furba fra virgolette che era quella di sostituire al dio biblico al dio pazzo al dio cretino descritto dalla Bibbia l'uno dei neoplatonici cioè la descrizione del bene la descrizione dell'intelligenza propria del dio dei neoplatonici e vi ricordo che proprio da allora partirono quelle analisi delle pagine di Plotino che misero in chiaro 4 o 5 cosette 4 o 5 cosette che furono servite anche in seguito quando qualcuno ha tentato di spacciare come paganesimo politeista quello che è il neoplatonismo il neoplatonismo è il neoplatonismo il paganesimo politeista è il paganesimo politeista e si tratta di due cose assolutamente diverse ora noi abbiamo una società civile che ha in sé tutta una serie di principi che sono a suo fondamento cioè noi non possiamo pensare ad una società civile al di fuori di quelle che sono le regole della Costituzione il problema e il problema grosso è che purtroppo abbiamo delle persone che dovrebbero applicare quelli che sono i principi costituzionali che invece preferiscono applicare i principi del macellare di Sodom e Gomorra cioè leggono la società civile come se fosse ancora una società monarchica o una società del periodo fascista e purtroppo noi siamo davanti a una situazione abbastanza strana dove spesso le persone non possono avere giustizia perché troppi magistrati interpretano le leggi come una forma di consenso al diritto che lo Stato cede nei confronti dei cittadini mentre noi ci troviamo in una situazione sociale dove lo Stato e le istituzioni sono legittimate soltanto nella misura in cui applicano i principi costituzionali purtroppo questo non succede cioè noi abbiamo magistrati che vengono meno a quelli che sono gli ABC della nostra Costituzione faccio un esempio abbastanza semplice del quale dal punto di vista sono estraneo però apre una questione giuridica anche abbastanza secondo me importante e rilevante ed è il caso ed è il caso che si è manifestato attreviso della donna col burca allora cosa è successo? è successo che hanno fatto questa legge diciamo così sull'antiterrorismo no? e questa legge mmm un attimo se riesco a trovare l'articolo dove diavolo ai 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 e quando dopo li cerchi gli articoli visto che sono tutti imbustati la legge sull'antiterrorismo aveva uno scopo preciso cioè quello praticamente di evitare che le persone si mascherino e che le persone possono commettere dei reati ebbene i vigi urbano di Travisa da quello che io ho letto e so hanno vediamo un attimo se riesco anche a leggere direttamente all'articolo della Repubblica cosa hanno fatto questi vigi urbano sarà scomodo tutta la testa e il corpo coperti solo gli occhi che spuntano da una grata di rette e color celeste ma portare il Burkar per motivi religiosi non è un reato e la comodità non è certo un affare di polizia o peggio dei tribunali facendo tirare un sospiro di sollievo la signora del Bangladesh 29 anni è sposata e residente a Treviso per seguire il marito al suo lavoro e facendo schiumare di rabbia lo sceriffo Giancarlo Gentilini il GIP Deliluca ha archiviato una denuncia contro la donna colpevole appunto di aver indossato il Burkar è accaduto proprio a Treviso la città delle crociate contro gli immigrati dove Gentilini allora sindaco oggi vice fece togliere le panchine delle strade per impedire ai straniere di sedersi di sopra non è reato neppure adesso dopo che gli emendamenti della Lega recepiti nel pacchetto di sicurezza seguito ai fatti di Londra hanno costretto a prevedere pene più severe per chi cira con il volto coperto perché la motivazione religiosa giustifica il travisamento nell'autunno scorso Gentilini aveva diramato un'ordinanza contro il Burka che aveva fatto scuola l'avevano seguito a Drezzo nel Comasco nelle Cese il 23 settembre la signora del Bangladesh era stata fermata dopo che aveva accompagnato il figlio a scuola invitata al comando dei vigili per l'identificazione denunciata per violazione dell'articolo 5 della legge reale la 152 già il pubblico ministero Antonio De Lorenzi aveva chiesto l'archivizzazione ritenendo l'abbigliamento giustificato dalla legge islamica ora la sentenza del giudice sottrae qualsiasi legittimità a queste prese di posizione la settimana scorsa era stato il procuratore generale di Venezia e no fortuna a spiegare che le nuove misure antiterrorismo si limitano a prevedere un esprimento delle pene e non a suggerire una diversa interpretazione giuridica l'uso di burca o c'è da ora cioè non è diventato un reato a meno che non ci sia rifiuto di mostrare il volto se richieste le forze dell'ordine a convalidare questa opinione del resto è l'ordinanza il Dipartimento di Polizia di Stato emesso lo scorso dicembre ed autore in vigore il provvedimento sostiene che l'uso del burca come segno esteriore prevede che sia necessario coniugare il massimo di sicurezza collettiva con il minor sacrificio possibile per le libertà individuali la polizia dunque può dunque intervenire per identificare chi nasconde il volto solo in circostanze o luoghi particolari che richiedono questa misura di contena diversamente dice a disposizione sarebbe percepito come un'inutile vessazione eppure dopo l'approvazione del pacchetto bisaneo grande è diventata la confusione e il Gosp è un sindacato di polizia attacciato di permissivismo alla tesi del procuratore fortuna nella stessa sentenza la settimana scorsa un vigile urbano ha fatto bloccare in canale grande finché non è arrivato una lancia della polizia un vaporetto perché a bordo c'erano tre donne di religione musulmana che indossavano il chador e il fular da attiviso i gentilini conferma la mia crociata continua la sicurezza non può passare in secondo piano allora e qual è il vero problema il vero problema è che questa donna praticamente era già conosciuta cioè si sapeva esattamente che questa donna avesse un chador e avesse un burca per cui i vigile urbani si sono appostati l'hanno praticamente circondata l'hanno costretta a seguirli al commissariato quando questi vigile urbani probabilmente sapevano benissimo chi era la persona e cosa la persona facevano ora al di là delle opinioni personali delle persone e di ciò che noi vogliamo perché è inutile fare una crociata contro il chador se dopo le suore possono andare in giro velate cioè non esiste nel nostro ordinamento giuridico questa possibilità di due cose o l'uno o l'altro ora questi vigile urbani hanno commesso un reato gravissimo hanno fatto effettivamente un atto di vessazione contro quella donna e ha sbagliato il giudice non tanto di mettere la sentenza di assoluzione con fronte della donna ma non rimandare gli atti del processo al pubblico ministero per inquisire sia i vigili urbani di Treviso che Gentilini perché i vigili urbani di Treviso e Gentilini hanno fatto un'azione vessatoria contro una poveraccia non hanno fatto l'azione antiterrorismo che si pica Gentilini Gentilini non ha una dignità morale per fare un'azione antiterrorismo Gentilini è solo uno che se lo prende con le persone più deboli è un vile è uno che nega la libertà di espressione è uno che nega la libertà religiosa delle persone è uno che ti dice tu le tue idee non le puoi dire tu non puoi dire le tue idee perché Gentilini dice io sono un vigliaco io sono un vigliaco e io ho paura delle tue idee io mi cago sotto con le tue idee le tue idee a me mi fanno paura questo è Gentilini a me lo ha detto a me Gentilini ha detto io sindaco Gentilini sono un vigliaco io ho delle idee di merda io Gentilini mi cago sotto tu che hai delle idee che puoi esprimere i pensieri tu non le devi esprimere questo fa Gentilini Gentilini è un vile è un uomo che non ha una dignità legata alla nostra carta costituzionale e ha sbagliato il magistrato perché doveva mandare quegli atti doveva mandare quegli atti al al pubblico ministero se interessa io ce l'ho ancora il fax che fece Gentilini quando ci ha proibito di tenere la conferenza a Treviso tanto per essere chiari e non è un diritto suo offendere le persone è stato un errore da parte della procura di non inquisire il signor Gentilini la procura di Treviso si è rifiutata nonostante fosse informata del reato commesso da Gentilini nonostante ciò fosse informata non è intervenuta pertanto non c'è assolutamente nessunissimo problema pronto chi parla? si? spettamente d'accordo con quello che sta parlando adesso è una cosa incredibile no cioè io sono contro l'islam io sono pronto a combattere l'islam dal punto di vista della visione religiosa ma non sono disposto ad offendere le persone deboli infatti questo è è una registrazione quella che stai mettendo no non è una registrazione è una diretta e sto parlando con te in diretta non sentivi? ferma 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 eccolo qua aspetta un attimo adesso senti? ah stragata grazie si si ma siccome Gentilini ha fatto a parecchie persone questa cosa l'ha fatto a Marco Paolini l'ha fatto anche a me personalmente per cui non è che ci si cioè ho il fax suo in cui ci sono le sue dichiarazioni e sono state anche segnalate alla procura della repubblica di Treviso cioè lui personalmente probabilmente ha procura ritenuto di non di non intervenire però le sue dichiarazioni ci sono è solo un atto di fatto insomma ok a lei sai ai 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 pronto? ciao Erano ciao 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 io penso abbastanza bene l'oretta qua passa sempre in fretta che dobbiamo fare te lo seguo sulla follia delle nince però non sono stato buon a capire che pagina che ti veri si ma te lo dico subito no no guarda te lo dico immediatamente perché l'ho qua segnato ad un secondo che giro pagina 20 27 ho cominciato da 27 i greci e dopo fino a 30 te lo seguo perché ho fuori i nomi che erano più i nomi i miti ed ora te lo te lo e niente te l'hai letto poi io non ho chiesto di Calasso non ho chiesto più niente no beh è del maggio 2005 questo di Calasso cioè è difficile che c'è qualcosa altro niente qua Repubblica c'è una bea cosa di Umberto Valimberti una pagina sulla cultura i miti d'oggi si comunicazione noi gli eri miti di massa c'è una bea pagina beh la pagina 37 è la cultura Valimberti è solito scrivere sulla pagina cultura ma ritaglio ogni tanto i suoi articoli le mille voci le mille voci che riempiono lettere eliscono le differenze tra gli uomini e li rendono sempre più soli certo si vive separati l'uno dall'altro come i monaci di un tempo in mezzo ci rende spettatori non partecipi né attori di un evento non c'è una pagina intera comunque dopo sempre sulla Repubblica il pavimento 37 che c'è la ricerca della lingua madre parla dell'uomo sapiens l'uomo sapiens che c'è un gruppo dei scienziati che dice che si era inventato la lingua già 100 mila anni fa però dice che i negri comunque era quello che volevo accennato perché in realtà si è scoperto che l'intelligenza attuale ha 100 e rotti mila anni per cui il fatto che non sia stata utilizzata prima non è perché non potevano ma non l'hanno utilizzata per il semplice fatto che non gli serviva ecco e questo è il punto e anche qua c'è una via pagina che parla appunto dopo il suo corriere c'è sempre la terza pagina c'è la cultura che c'è un decadente sulle tracce di Dioniso alla luce di Nietzsche la sua musica assume toni anticristiani c'è un compositore la prima volta che ho sentito da me provarsi che se ho sentito nominare comunque dell'Ottocento alla luce di Nietzsche la sua musica assume toni anticristiani tra i segnalati è sempre il futuro sì ma sta venendo fuori un po' dappertutto questa rivolta al cristianesimo sta sbocciando da tutte le parti sì ma aspetta che niente è dobbia trovare il gene della il gene della parola e si si trova il gene della parola il corriere sì vabbè sull'Enea di siccome che mica ho il volume dell'Enea di Plotino no? eh cioè da tirar fuori è positivo come opera insomma sì allora praticamente quello che io ho commentato adesso non mi ricordo esattamente anche perché ho spento al computer adesso si tratta di Enea di abbastanza avanti credo che sia sul nono libro non Enea eh non Enea sì praticamente dove parla dell'uno libro arbitrio l'intelligenza e il sommo bene sì sì ho fatto quelle pagine che ho messo in internet sì comunque Plotino sei un di neoplaton esatto esatto praticamente non ha niente a che fare con con il Paganese no però tutto quello che è Giuliano L'Apostata lui usò i neoplatonici cioè quello che lui voleva obbligare il cristianesimo e i neoplatonici beh c'hanno una visione delle idee cioè avevano quello che era insomma cioè le linee orfici capito però anche gli oracoli caldaici cioè avevano tutta una serie di materiali che richiamavano gli antichi che però reinterpretavano a modo loro cioè c'era Procolo in fondo che fu uno dei più grandi cioè non va bene dopo che parlate della psiche infantile anche prima sì all'interno del discorso del male assoluto cioè la distruzione dell'uomo De Jung qua che c'è dei bolinghieri dei libelli qua da 9 euro la psiche infantile De Jung vese opere De Jung beh De Jung sì sì sono già digerite ormai da non evitare la vita simbolica presente e futuro lui che avevo naturalmente ci sono i piccoli libelli da cento pagine ci sono da parte certo va bene va bene lascio che ci vedo qualcosa altro ciao ciao niente qui non vedo ancora il viso arrivare vediamo un attimino cosa si può fare pronto buongiorno velocissimo grazie certo ho detto che a pace il contrario non sia guerra mi dico che se la passione del traimento dell'umanità che sta fatto perché a casa lavora a salute e a scuola se contraria la pace però non mi è questo se vuoi lavorare sui preti i suoi tecchi e lavorano non è per nessuno perché siamo di poesi in Italia però qua lui va e va contro la pace e la pace siamo i zombie perché non abbiamo concorrenza da coperti i monopoli non hai mesari che tu hai che tu hai guarda nella testa perché si aprieta è chiesto non hai i portali e quando chi vuoi perché lui sta sempre bene e la puoi dire che se le richiedete delle cattive ok va bene ciao ciao allora io qui non vedo Alvise arrivare non so neanche come andare avanti con la trasmissione effettivamente ovviamente io adesso dovrei mettere su pubblicità mettere sulla sigla e chiudo la trasmissione però Alvise chiaramente non lo vedo è che mi preoccupa un pochino pronta ciao 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 eh dimmi ciao sono Giuseppe Cittadella volevo sentire la tua opinione sui kamikaze delle donne lapidate non so no no non te do nessuna opinione non te do nessuna opinione perché noi stiamo vivendo in Italia e ciò che a noi ci interessa è ciò che succede in Italia dopodiché che questo faccia schifo questo è un altro discorso però appartiene a un'altra cosa e io non voglio scatenare una guerra fra cristiani e musulmani solo perché uno vuol macerare va bene ciao ciao il vero problema è esattamente questo cioè il cristianesimo viene a raccontarti le puttanate del tipo ma i paesi musulmani i ghi ha delle regole che è brutte che è che è cattive che non sono civili mentre noi nei paesi occidentali abbiamo delle regole civili sì ma queste regole civili le abbiamo conquistate col sangue all'interno dell'orrore cristiano cioè noi ci siamo aperti i varchi in centinaia di anni di persone dall'illuminismo fino ad oggi ma ancora prima da quello che è il rinascimento da quello che sono state anche la riforma luterana da quello che sono state le società mercantili da allora noi ci siamo conquistati ciao a tutti è arrivato finalmente al Vise vi mando la sigla e vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione ciao 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 ciao